mini recensione richiesta tramite donazione patreon da maurone che mi chiede di parlare del film di carlo vanzina del 1983 sapore di mare con gerry cala chiaramente carina af marina suma virnalisi cristian de sica gianni ansaldi isabella ferrari e molti altri che insomma facevano parte di questo cast super cast se vogliamo e per l'epoca di nuovi facce tutti praticamente abbastanza mono espressivi abbastanza insalvabili in un certo senso la recitazione per questo film insomma sapore di mare e dicevo forse uno dei migliori film di vanzina in quel senso c'è perlomeno aveva una regia costruita una storia che serviva a qualcosa siamo a forte marmi l'estate 1964 si intrecciano varie storie di famiglie più ricche più povero evidente da tante città italiane e quindi insomma abbiamo questi toscani chiaramente la famiglia milanese la famiglia di gianni che è quel genovese che è affinandato con selvaggia che però si innamora poi di adriana queste scaramucce questa estate che viene passata fra canzonette storie d'amore falò mollamenti rilasciamenti che poi porteranno appunto alla finale che vorrebbe essere quasi drammatico su il passare del tempo è sicuramente una 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 di quelle diciamo così filmetti che non pensavano di poter portare chissà qual è successo e che invece fuori un successo clamoroso poi fu girato il 2 che era inguardabile qui bisogna dire la verità e bisogna dire che la sceneggiatura è un po all'acqua di rose e le cose che succedono sono abbastanza telefonate però alla fine è un quadro di un racconto di un'epoca che tutto sommato si riesce a guardare ripeto le canzoncine classici che è estive italiane sapore di mare appunto e via dicendo sono lì proprio a fare da nostalgia l'effetto nostalgia che viene fatto adesso per gli anni 80 e 90 qui veniva fatto per gli anni 60 e per il pubblico funzionò e poi gli anni 60 ripeto visti come una cosa pre contestazione quasi come se fossero più belli di dopo insomma una gioventù per niente politicizzata per niente interessata a niente altro che non sia appunto la scaramuccia la storiella d'amore quindi un film veramente leggerino che ripeto comunque alla fin fine ci si poteva stare perché in confronto a quello che faranno dopo sembra quasi di vedere il film di romero ora non lo è però è una commedia e si guarda però si guarda con la coscienza di sapere che si sta guardando qualcosa che è invecchiato malissimo che è comunque girato e che quindi ha un montaggio decoroso una fotografia si lascia guardare che non era ancora diciamo cinema completamente stilizzato su ciò che era la televisione soprattutto berlusconiana e quindi ancora si leggeva un po' di cinema sicuramente meglio questo del tanto matto vacanze di natale qui perlomeno si cercano di costruire però la ferreria è insopportabile christian di sican se può guardare gerry calà assolutamente ripeto forse marina suma è quella che si salva di più delle giovani e virnalisi comunque con la bellezza e le esperienze riesce a salvare un po' baracca e burattini ma qui siamo comunque di fronte a un film dove si ricorda quasi perché appare alba parietti alla fine del film come che si sa come apparisse catrini de neve quindi boh classico film che per me lascia veramente il tempo che trova è un cult per tutto forse è un classico della neocommedia italiana di sicuro non lo è per me io ne ho un classic film che da bimbetto video al cinema avevo dieci anni che avevo visto 600 volte in televisione mille volte perché magari amici non l'avano visto è diventato un cult come detto quindi tutti lo volevano vedere come vacanze di natale ripeto però qui si evitano da certe volgarità si cerca di fare un certo tipo di commedia un po' all'italiana qualcosa riesce e molto altro no quindi per me è un film mediocre che comunque si merita un'occhiata per quelli che cercano di amare un po' tutto e per quelli che amano il cinema di Vanzina che io non ho mai sopportato e quindi continuo a non sopportare tranne rarissimi casi e questo è cinema ruffiano è cinema scritto così così è cinema interpretato male che si salva esclusivamente per l'effetto nostalgia e per il mestiere che giustamente Vanzina probabilmente avevano e che non hanno mai espresso al massimo perché gli fregava un cazzo gli bastava incassare i soldi e anche questo mi pare che sia diventato un cult talmente ampio che ancora oggi appunto nel 2023 me ne chiedono una mini recensione e continuano a fare proiezione di una cosa che per il sottoscritto se mi permettete lo posso dire poteva anche scomparire dalla storia del cinema e manco me ne sarei accorto con tutto questo il link è qua sotto tornate su Patreon un mi piace iscrivetevi al canale il pippolo e la campanellina per avere subito le notifico il pulsante del super grazie qui sotto per tornare su Youtube Facebook, Instagram e insomma poi se amate così tanto questo cinema vacanziero diciamo estivo diciamo il cinecocomero in anticipo questo sapore di mare probabilmente ce l'avrete già se amate Vanzina problema vostro se amate e se non avete mai visto questo film dateli magari un'occhiata che magari mi sbaglio io è un capolavoro in mare e non c'ho mai capito un cazzo ripeto il link per chi lo volesse è qua sotto grazie a tutti